Buongiorno ragazzi, sono professore nocenti dell'Ipsar Luigi Veronari della sede coordinata della Balsamoggia e ho realizzato questa video lezione per trattare il tema del lievito madre o del lievito naturale. Dunque, la prima premessa è la seguente. Questo tipo di produzione comprende solo pochissimi ingredienti, però conoscendo un attimo il nostro modo di lavorare e il nostro essere un pochino un divaghi anticipo già che realizzare un lievito madre performante richiederà tanta cura, molto impegno e molto tempo. Chiunque desideri intraprendere questa esperienza con pochissimi ingredienti a casa lo dovrà fare ben sapendo che prima di 15-20 giorni non riuscirà a realizzare un prodotto finito. Altra cosa da considerare, faccio questa premessa, è che con gli attrezzi, gli utensili di casa, con il forno di casa spesso e volentieri il risultato relativo alle cotture potrebbe essere difforme da quello che noi troviamo fuori in commercio. Passiamo quindi ad approfondire l'argomento. La pasta madre o lievito naturale è un impasto di farina e di acqua lasciata maturare per un tempo più o meno lungo. Durante questo periodo i lieviti, i batteri lattici e acetici presenti nell'aria e nella farina danno vita ad un vero e proprio processo di fermentazione. Quindi che cosa succede? I microrganismi si nutrono degli zuccheri presenti nella farina sotto forma di amidi e danno origine ad una fermentazione che dà alcol etilico e anidride carbonica. Quali sono le caratteristiche del lievito naturale? Per la composizione influiscono diversi fattori, quindi il tipo di farina più o meno raffinata, la qualità dell'acqua che deve essere non clorata, quindi assenza di cloro possiamo evitare come prima partenza un'acqua del rubinetto, a meno che non viviate in un posto incredibilmente pulito e incontaminato. Va valutato come primo impatto il fatto che la pasta madre o lievito madre è un vero e proprio essere vivente, è una comunità di microrganismi che costantemente fermenta e l'operatore che desidera realizzarlo deve tenere sotto controllo questa fermentazione. Non solo deve tenerla sotto controllo, ma deve anche saperla dosare nelle preparazioni che intende realizzare. E quindi passiamo brevemente alla nostra creazione. Noi utilizzeremo acqua e farina. Ci possono usare starter come frutta matura, succo d'uva, succo di mela, yogurt perché è lato bacilli e sono pieni di microrganismi e possiamo dare lo starter, quindi la partenza, al nostro impasto. Come realizzare la pasta? Poi faremo alcune osservazioni, quindi adesso scendo nel pratico e poi dopo dirò qualcosa di specifico sulle preparazioni. Quindi il ragazzo che desidera provare a fare questa preparazione dovrà valutare di impiegarci 13-14 giorni per la realizzazione del lievito naturale. Si parte. Il primo giorno è previsto di fare questo impasto. Usiamo 200 grammi di farina e la metà del peso della farina in acqua. Ogni volta che noi dobbiamo fare, e lo vedremo un po' in seguito, rinfreschi o potenziare il nostro impasto perché ne abbiamo bisogno in grandi quantitativi, noi dobbiamo sempre calcolare che faremo l'aggiunta di farina e acqua in base a questa proporzione. Per una parte, per 100 grammi di farina, 50 grammi di acqua. Ovviamente essendo questa comunità di microrganismi noi la vogliamo attiva, il contesto ambientale e le attrezzature utilizzate e la qualità degli ingredienti faranno la differenza. Come primo step, il primo giorno, andiamo in una bastardella con l'aiuto di una forchetta a miscelare gli ingredienti con l'aggiunta di un cucchiaino di miele. Ora, gli impasti potranno risultare più o meno acidi. Il cucchiaino di miele ci darà un impasto mediamente acido quando arriverà a maturazione. Quindi noi cosa facciamo? Con un'acqua non fredda e non calda, quindi tiepida, ho specificato, inferiore a 30 gradi, superiore a 20 gradi. Una farina, io la prenderei magari, non so, biologica. Un cucchiaino di miele, se possiamo, anche biologico. Noi in una bastardella creiamo il nostro impasto, creiamo una palla e la mettiamo all'interno di un contenitore, se vogliamo verificare, trasparente. Magari una carraffa graduata, ben pulita, senza residui di detersivo, sciacquata, asciugata. Mettiamo la nostra palla al centro facendo un'incisione a croce sulla superficie e copriamo, ma non sigilliamo, copriamo con un panno, magari un elastico al bordo della carraffa in modo tale che rimanga in tensione. Se copriamo con pellicola trasparente dovremmo fare alcuni fori. Per quale motivo? Perché l'aria a contatto con il nostro impasto darà comunque un plus. Non deve essere sigillata, deve traspirare, deve respirare con l'ambiente. Riporremo questo nostro primo impasto all'interno di una dispensa, lontano da correnti d'aria e quant'altro. Quindi in un ambiente, se vogliamo, in un mobile, in una credenza, al chiuso e la lasciamo a temperatura ambiente per 48 ore. Passate 48 ore andremo a riprendere il nostro impasto. Quindi che cosa dovremo notare? Innanzitutto l'impasto deve essere più che raddoppiato. Ci devono essere tante bolle e procederemo a quella che in seguito vedremo potrebbe essere considerata un'operazione di rinfresco. Quindi stacchiamo la copertura. Nella parte superiore ci sarà una crosta che noi dobbiamo asportare e gettare. Prenderemo 100 grammi di composto, le posizioneremo nella bastardella, aggiungeremo 100 grammi di acqua tiepida, non calda, non fredda ovviamente, perché noi stiamo parlando di microorganismi vivi e dobbiamo sempre creare un contesto per lasciarli attivi o nelle condizioni migliori per riprodursi. Una volta che noi abbiamo fatto, abbiamo lavorato con le mani, con una forchetta, con una spatola, abbiamo lavorato un'alicapentola, abbiamo lavorato il nostro base di lievito con l'acqua tiepida, andiamo ad aggiungere la farina, quindi 200 grammi, nuovamente passiamo in spianatoia, impastiamo, riformiamo la palla e riflettiamo l'operazione esattamente come fatto in precedenza, ovvero un panno traspirante sopra la nostra carraffa graduata trasparente e riporremo lontano da correnti d'aria in una dispensa il nostro impasto per altre 48 ore. Passate 48 ore, ripeteremo nuovamente ciò che abbiamo fatto nel terzo giorno. Quindi, piega la crosta, sciogliamo il cuore del nostro lievito Mada all'interno dell'acqua, ancora farina, ancora taglio, ancora copertura e ancora 48 ore, lontano da correnti d'aria in un ambiente non moderatamente caldo ma neanche freddo, quindi diciamo dai 20-25 gradi, che cosa otterremo quindi? Otterremo che la nostra comunità di microorganismi sarà sempre più attiva. Ogni volta che noi addizioniamo una farina, stiamo quindi concedendo amidi, quindi zuccheri complessi, che loro impareranno sempre più rapidamente a scindere e di utilizzare creando alcol etilico e anidride carbonica. E l'anidride carbonica, per intenderci, sono quelle bolle intrappolate all'interno dell'impasto, altrimenti non si alzerebbe. Se il nostro impasto, arrivato a questo punto, non presenta bolle o altro, a mio avviso sarebbe il caso di ricominciare da capo. Una volta che siamo arrivati a far fare tre volte 48 ore a temperatura ambiente di sviluppo, passeremo a fare il rinfresco una volta al giorno. Quindi dal settimo al tredicesimo giorno prenderemo 100 grammi della madre, aggiungeremo 100 grammi di acqua tiepida, aggiungeremo 200 grammi di farina e ripeteremo l'operazione, ma non ogni 48 ore, ma bensì ogni 24 ore fino al tredicesimo giorno. Che cosa succede al tredicesimo giorno? La madre è molto giovane, quindi dobbiamo cominciare a osservare il nostro impasto, quali sono i mutamenti e possiamo cominciare a pensare di realizzare qualche prodotto. Una madre che è da considerarsi valida e buona, diciamo, nel momento in cui noi facciamo un rinfresco, raddoppia del suo volume in 3-4 ore. Questo è già un indicatore. Poi non è più appicciccaticcia, bagnolina e quant'altro, si presenta un pochino più elastica, con un odore gradevole che ricorda il vino, e il colore deve essere bianco. Ovviamente se usate delle farine particolari, con ceneri, quasi non abburrattate, quindi quasi integrali, è evidente che avrete una pigmentazione, una colorazione dell'impasto un po' diversa. Al gusto, se noi assaggiamo un pochettino di pasta cruda, deve essere leggermente acida, perché parliamo sempre di una fermentazione, però non deve essere drammaticamente acida o sgradevole. Dopo 13 giorni, se il nostro impasto è grigio, se ha un sapore molto molto acido, amarognolo, quasi troppo forte, sgarbato, se non ci sono alveoli sviluppati all'interno della nostra pasta, quindi abbiamo un lievito sì, ma è un lievito poco performante, se è un impasto dal sapore acido-dolciasto potrebbe essere un lievito non adeguato di una preparazione, quindi in questo caso bisogna assolutamente valutare se proseguire a coltivare questa colonia di microrganismi oppure no. Se c'è la muffa sopra, lasciate perdere, si getta che è un piacere, si può correggere, sì certo si può correggere, ci sono delle pratiche per correggere un impasto, però in fase di partenza sono più, mia rilevazione personale, gli insuccessi che i successi, per la mia testimonianza. L'altra cosa che va valutata è che arrivati al tredicesimo giorno avremmo già buttato via quasi due chili di farina, avremmo impolverato dieci volte, se non quindici, la cucina e avremmo aperto l'anta dell'armadio così tante volte che probabilmente gli infissi della porta sono messi a dura prova. Quindi cerchiamo di essere un attimo critici, se la nostra madre non appare adeguata, se siamo volenterosi, ripartiamo da capo. Come conserviamo invece se abbiamo avuto un discreto successo? Una volta ottenuta la pasta madre, il lievito madre, verrà conservato in frigorifero ad una temperatura di circa 4 gradi, coperta e sigillata ermeticamente. in questo caso lo stracce, nel frigo entrano e escono tante darate alimentari, noi abbiamo già la nostra comunità di microrganismi attiva, non c'è bisogno che ne aggiungiamo altri, quindi quando andiamo in frigorifero la chiudiamo con il tappo. La pasta madre, il lievito madre, è viva, è un organismo vivente e quindi va costantemente alimentata. Come faccio io? Esattamente le necessità che chi di voi ha un cane in una casa, in condominio, il cane tutti i giorni deve andare fuori a fare i suoi bisogni. La pasta madre, giornalmente, o se no ogni due giorni, massimo, massimo, tre giorni, deve essere rinfrescata. Per rinfresco, l'abbiamo visto precedentemente nell'impasto, ma torniamo a dare qualche dato, se io prendo 100 grammi di impasto, lo sciolgo con 100 grammi d'acqua e aggiungo 200 grammi di farina, la proporzione è sempre la stessa, sempre. La mia madre rimarrà, gli ho dato da mangiare, introducendo nuova farina, degli amidi ai microrganismi e loro per ancora tre giorni rimangono molto ben attivi. Consigli per il rinfresco. Quando noi abbiamo una madre attiva e quindi siamo arrivati ad avere un lievito madre discreto, a questo punto non dobbiamo perderci e dobbiamo rimanere molto attenti ai passaggi. Primo, ovviamente voi sapete che il frigorifero a quattro gradi rallenta lo sviluppo dei microrganismi, non li ferma completamente, li rallenta. Quando noi dobbiamo fare un rinfresco, a questo caso tenetevi un'agenda, un diario di bordo, altrimenti vi perdete, ve lo assicuro, dobbiamo tirare fuori il barattolo dal nostro frigorifero una mezz'oretta, 40 minuti prima in modo tale che la temperatura ambiente ridia un attimo un abbrivio all'operazione che svolgono i microrganismi. Dopodiché effettuiamo il nostro rinfresco. Diciamo che io ho messo in alto a destra, voi vedete, base 2x1, quindi per 200 grammi di farina, ci andranno 100 grammi di acqua e 100 grammi di lievito madre. Questa proporzione più o meno. Qui signori, corro un attimo avanti, chi di voi prevede per il fine settimana di fare una preparazione, attenzione, chi prevede di voi di fare una preparazione tipo la pizza o del pane e ha bisogno di un quantitativo di lievito madre adeguato, in questo caso svilupperà questa proporzione. Se io ho bisogno di un chilo di lievito madre, prenderò 500 grammi di farina, 250 grammi di acqua e 250 grammi di lievito madre. Effetto il rinfresco e lo metto in frigorifero. Dopo che noi abbiamo fatto il rinfresco, aspettiamo un attimo a mettere il nostro lievito direttamente in frigorifero, lo lasciamo impuntare anche due o tre ore fino a quattro fuori dal frigorifero e poi lo mettiamo. Quindi noi giochiamo, questa signora è tecnica di base di cucina, noi giochiamo con la temperatura per o sviluppare, fare accelerare qui nella temperatura ambiente i microrganismi o rifrigerando 4-2-4 gradi cercando di limitare la riproduzione dei microrganismi. Ovviamente il tappo deve essere ben chiuso. Alcuni consigli, le infinite variabili su come lavorare il nostro lievito. la pasta prima di essere lavorata deve essere rinfrescata. Qui signori ci giochiamo la partita perché se siamo arrivati a questo punto significa che abbiamo un prodotto dopodiché dobbiamo capire come arrivare al prodotto finale. Se io voglio fare la pizza al sabato sera significa che la mattina ho preso fuori il lievito dal frigorifero l'ho lasciato a temperatura ambiente circa mezz'ora ho effettuato il rinfresco per produrre la quantità che mi interessa e sempre fuori dal frigorifero l'ho lasciato virgolette aperte impuntare quelle 3-4 ore. A questo punto vedete come invece è articolata la lavorazione quando si usa il lievito madre rispetto al lievito di birra o al polish o altri tipi di lievito. In questo caso andrò a fare l'impasto per la pizza nel primo pomeriggio diciamo il 33% 300 grammi circa di lievito madre per chilo di farina e lascerò la farina una volta che l'ho incordata e impuntata l'andrò a stendere e dopodiché potrò realizzare la pizza. Tutte queste cose vanno pensate prima la persona che decide di fare il lievito madre si deve sottoporre ad una scansione orale della giornata per arrivare a realizzare un prodotto una scansione seria. Ovviamente ci sono degli altri aspetti che devono essere presi in considerazione ci sono degli impasti che sono ricchi di grassi altri che sono ricchi di zuccheri noi in questo caso possiamo fare solo un rinfresco 3-4 ore prima possiamo fare un doppio rinfresco a temperatura ambiente quindi cominciamo a lavorare 8 ore prima e per 8 ore facciamo maturare il nostro lievito madre a temperatura ambiente quindi scateniamo i microrganismi nella loro migliore condizione diamo per due volte farina fresca e temperatura ambiente loro dovrebbero avere una reazione virulenta e far gonfiarli in pasto visto d'occhio. Per i temerari ho scritto ma ti pererai un pochino come dire ironico se non sarcastico per quelli che vogliono fare la colomba in casa o il panettone o altri tipi di preparazione possiamo addirittura cominciare a lavorare 12 ore prima facendo 3 rinfreschi quindi 12 ore prima 8 ore prima 4 ore prima in questo caso noi portiamo il lievito alla massima potenza per coloro invece che sono molto bravi e vogliono veramente valutare fino in fondo le loro capacità questa è la sfida proprio c'è anche una tecnica dove si lega il nostro lievito madre lo si lega con questo panno e lo si lega in maniera avvolgendolo più volte e legandolo molto stretto in modo tale che per svilupparsi il lievito deve sviluppare una grandissima forza che a volte arriva anche a rompere il telo ovviamente quando noi avremo dobbiamo fare certi tipi di preparazione noi vediamo che è indispensabile avere un lievito molto forte qui adesso ho messo una citazione rigore quando arbitro fischia può succedere che nel trantram della lavorazione del nostro lievito madre noi perdiamo un giorno due oppure ci siamo dimenticati può anche essere che qualcuno non ne abbia voglia ci si inacidisce oppure sentiamo che l'impasto è troppo è troppo forte ha degli aromi troppo forti ma è ancora bello è ancora bianco allora come facciamo a recuperarlo noi lo tagliamo in pezzi lo mettiamo in una bacidella con dell'acqua non non calda ma neanche ghiacciata alcuni ci mettono anche due cucchiai di zucchero perché voi sapete che lo zucchero è un amido lo zucchero si è molato e quindi diamo da mangiare ai nostri amici microrganismi che ci restituiranno un impasto corretto dopodiché una volta che abbiamo fatto questa operazione per circa 20-30 minuti quindi noi togliamo via un po' quel senso di acidità andiamo a strizzare il nostro impasto e andiamo a effettuare il rinfresco come noi conosciamo Buce Gimbosco allenatore della Sampdoria di tanti anni fa concludo se voi volete perché io immagino l'entusiasmo del primo giorno la curiosità del secondo il desiderio del terzo poi piano piano dal quinto in poi l'attenzione su questa sfida potrebbe un attimo scemare mettetevi io ve lo chiedo proprio nell'interesse delle vostre famiglie chi ha nel sangue questo lavoro ed è affascinato dall'inogastronomia io penso che gli impasti a base di lievitati siano la sfida più bella in assoluto perché se io compro un branzino in qualsiasi maniera rimane un branzino e la qualità del pesce è intrinseca al prodotto mentre per i lievitati la ricerca delle farine la forza delle farine il quantitativo di grasso il tipo di grasso gli alveoli sviluppati sono potremmo stare qui potrei fare un video da 25 ore non aver finito di parlare di questo meraviglioso argomento la cosa che vi chiedo io è semplicemente questa se voi decidete di cimentarvi in questo ovviamente ne possiamo parlare possiamo trattare c'è bisogno di però le solite cose quelle che servono nella vita di tutti i giorni sudore perché bisogna fare un po' di fatica le cose non vengono subito chi di voi desidera provare deve fare un po' di fatica dà un gran gusto quando arrivi in fondo ma prima devi fare fatica due curiosità io vi ho raccontato di vita madre così ma se andate in giro in internet su youtube ce ne sono da buttare via di ricette di opinioni di tecniche di lavorazione quindi coltiviamo la curiosità e costruiamo le conoscenze se noi non costruiamo le nostre conoscenze noi non possiamo neanche valutare un lievitato fatto da altri poi giustamente sperimentiamo immagino che visto questo video ci sono due che partono diretto per la colomba altri se fanno un grissino sono contenti poi quelle caratteristiche di ognuno di noi la volontà se noi non mettiamo volontà in quello che facciamo inutile che ci cimentiamo lasciate perdere accendete la playstation le farine lasciate nel mobile che diventano che scadono lasciatele lì perché è tutto il tempo perso la frustrazione che ne deriva da sbagliare lo lievito visto che a me è capitato più volte ma non mi sono arreso e il gusto di arrivare in fondo a questa sfida è stato meraviglioso e l'altra cosa non arrendersi si impara più della gestione delle sconfitte rispetto ai trionfi secondo me questo è tutto e quindi aspetto le foto dei vostri prodotti non mi sono